La Fiorentina piega 2 a 1 il Sassuolo, con rigore di González al novantunesimo, un penalti per parte, entrambi per falli di mano. La ripresa riscatta un primo tempo lento, solo un flash di Pinamonti respinto da Teracciano, Saporara entrato dopo l'intervallo, manda avanti la Viola su Astis involontario di Ferrari, che non riesce a spazzare, 48esimo, in neroverdi equilibrio al 57esimo, con rigore di Berardi, mano di Dodo sul tiro di Pinamonti, Canuame sciupa una buona chance, Ferrari si riscatta e salva sulla linea, la zucata di Sabonà, González manca un'opportunità, ma al novantunesimo realizza il rigore con successo mani di tre soldi. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, campanella, notifica e un commento. Ciao!